Una mostra per non restare indifferenti perché l'obiettivo con cui è nata Medici Senza Frontiere è quello non solo di intervenire nelle aree di crisi ma anche di testimoniare al mondo quello che in quelle zone accade. Ancora una volta qui all'università presso la Biblioteca Frinzi vogliamo raccontare i contesti dove noi operiamo perché sono contesti dove si consumano profonda sofferenza e quindi riteniamo come anche il mandato di MSF di testimoniare ciò che noi vediamo ed ecco il titolo appunto della mostra Con gli occhi di Medici Senza Frontiere che poi vuole dire vedere le cose dalla nostra prospettiva da un punto di vista umanitario. La mostra Con gli occhi di Medici Senza Frontiere è allestita nella Biblioteca Universitaria Frinzi in quello che è un bacino di utenti ideali per i futuri operatori. Quanti sono gli operatori di Verona e delle province limitrofe impegnati nel mondo con Medici Senza Frontiere? Attualmente sono una ventina ed è un numero veramente considerevole. Anche questa è un'espressione di un territorio che sa fornire risorse professionisti di alto livello ma proiettati nell'ambito dell'umanitario, cioè più preoccupati a salvare vite umane che non alla propria carriera, al proprio prestigio. Elda Baggio, chirurgo, rientrata due giorni fa dal Burundi per un progetto dell'università, ci spiega il suo impegno con Medici Senza Frontiere. Lei è rientrata a fine 2017 dall'Iraq. Che situazione ha trovato là? Beh dunque, in Iraq io ero in un ospedale da campo, fatto di container, ma un ospedale molto ben strutturato, situato tra Mosul e la Ouija, che era l'ultima roccaforte dell'Isis, la cui riconquista è cominciata due giorni dopo che sono arrivate. Da quel momento ovviamente è stato un fiume di feriti di guerra, bambini, tanti bambini. Questa volta in Iraq non è la prima volta che vado in un focolare di guerra, lo Yemen, la Somalia, però quest'anno veramente è la prima volta che mi sono interfacciata. Sarà stata una casualità con un sacco di bambini feriti, qualcuno morto e così via. Quali caratteristiche deve avere il medico pronto a partire per questi scenari di guerra in cui si tocca proprio la sofferenza nel modo assoluto? Beh, oddio, medico, in questo caso io faccio il chirurgo, parlo di chirurgia. Cioè al chirurgo che parte per situazioni di questo tipo, ma anche in contesti africani, dove molto spesso è l'unico in grado di fare procedure chirurgiche, si chiede una visione molto allargata della propria professionalità, che non abbiamo qui, perché qui siamo abituati agli specialisti a chiamare qualcun altro se la cosa non è di nostro diretto interesse tecnico. E lì ci si deve abituare, preparare, formare, a occuparsi di tutto quello che capita dal taglio cesareo alle fratture di gamba, passando per la chirurgia tradizionale.